Accordo all'insegna del Made in Italy tra l'eneficio Cerruti di Biella, uno dei più prestigiosi in Italia, e Itema, azienda bergamasca tra i leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni avanzate per la tessitura. E con questo accordo le due aziende avviano una collaborazione basata sul comune orientamento verso un'innovazione sempre più sostenibile, che possa generare anche valore nel rispetto dell'ambiente delle persone. L'installazione di 30 nuovi telai operativi di marzo nello stabilimento biellese del leneficio aumenterà la capacità e l'efficienza della produzione di leneficio Cerruti, ma anche la qualità del tessuto e la sostenibilità delle lavorazioni. Inizia così un percorso che ci aiuterà ad esaltare maggiormente il concetto di lusso creativo, così insito nel DNA della nostra azienda, commenta Filippo Vadda, presidente amministratore delegato del leneficio, secondo cui la partnership con ITEMA testimonia l'impegno per un impatto sempre più positivo nei confronti del pianeta e delle generazioni future. Ma non è solo una partnership tecnologica, ma l'inizio di un percorso di cosviluppo che ci permetterà di progettare soluzioni di grandissimo valore, aggiunge Ugo Ghilardi, amministratore delegato di ITEMA, convinto che, insieme, daremo lustro alla creatività e all'innovazione made in Italy che tutto il mondo ammira.